Il titolo dell'opera è Lasciami andare. Ho raffigurato una stanza a sfoglia con al centro una donna sdraiata, illuminata da un fascio di luce che proviene da una porta sul fondo. Due mani sbucano dal pavimento e cercano di afferrarla. Il quadro per me ha molteplici significati. Rappresenta il desiderio di voler uscire, scappare, liberarsi da una situazione difficile. È stata premiata questa mattina Martina Taddeucci, studentessa del Liceo Piero della Francesca di Arezzo, ma residente da sempre a Montevarchi. Un premio consegnatogli per il suo disegno arrivato al secondo posto a livello nazionale sulla violenza contro le donne. Il titolo del concorso era Mai più schiave. Il plauso per questo obiettivo raggiunto alla studentessa valdarnese è fatto dal dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Aretino. Ha partecipato a questo concorso nazionale Mai più schiave in occasione della festa internazionale della donna, proprio oggi, 8 marzo. E quel quadro che avete visto mentre scorrono queste immagini ha vinto il secondo premio assoluto a livello nazionale perché è stato considerato un quadro importante in una giornata importante come quella di oggi. Quindi un quadro abbastanza drammatico. Però insomma sono drammatiche le storie e le notizie anche di ieri, due femminicidi. Per cui noi con questo quadro e con il messaggio che abbiamo messo nel nostro spazio web e che diamo in questo momento vogliamo augurare una bellissima e importante festa della donna, giornata internazionale affinché questo titolo Mai più schiave, il titolo del concorso e del premio del presidente Mattarella, si realizzi realmente, non ci sia più schiavitù e sottomissione, ma nel mondo si viva perché uomini, donne si possa collaborare per creare un mondo migliore per i nostri ragazzi, per i nostri studenti.